da 1 a 10 quanto sei contento sono molto contento veramente già già quando quando sono arrivato qua dopo dopo primi primi allenamenti prime partite ho visto che atalanta e bergamo sono qualcosa veramente speciale mi sono ho visto quello e sentito quindi niente devo devo ringraziare alla società per la fiducia perché questi questi momenti particolari un po duri per tutti non è facile investire quindi lo ringrazio e niente l'ho visto visto già prima che che squadra era forte ma è mister molto bravo però a parte questo visto che questo è una società club e tifosi sono molto familiari che entrano tutti quanti quindi sono molto contento di essere qua è prima volta che sono più di un anno a un posto la società mi hanno dato la fiducia quindi devo ripagarlo ancora e spero che adesso tutti insieme tutta la squadra con mister facciamo ancora godere e un po mettere le sorrisi su questo popolo atalantino a bergamo c'è tanto bisogno di sorridere sì sì questo questo è un obbligo per per noi per per dare un po un po di sorriso un po di soddisfazioni a tutti qua perché è stato un brutto periodo specialmente qua a bergamo quindi noi noi scendiamo sul campo e daremo tutto tutto quello che abbiamo perché lottiamo non solo per noi ma per tutta la tutta la città quindi spero che spero che facciamo ancora molto bene ti faccio scegliere preferisci il primo realizzato al manchester city che ha significato anche il primo punto storico dell'atalanta in champions league o quello segnato allo shakhtar donesk che è significato un altrettanto storica qualificazione agli ottavi di finale fortunatamente ho fatto qualche qualche gol importante non so non posso scegliere erano tutti tutti importanti ma non solo per me per la squadra questo questo è più importante quindi spero di farli ancora di più abbiamo adesso tante tante partite da giocare ogni praticamente ogni 3 4 giorni sarà dura ma sarà dura per tutti quindi si ricomincia da da zero per tutti e noi noi siamo quarti e dobbiamo difendere questo posto e se possibile guardare in avanti e poi quando finisce pensiamo pensiamo alla champions sicuramente con con uscito quello che come come si gioca magari un vantaggio però ripeto prima prima campionato molto molto felice ciao ciao ciao